Ali Esani è nato in Afghanistan. Quando aveva otto anni la sua casa è stata distrutta e i suoi genitori sono morti. Ali è partito con il fratello maggiore e dopo cinque anni di viaggio e il sacrificio del fratello è arrivato a Roma nel 2003. Ha studiato, si è impegnato, si è laureato in giurisprudenza e ora insegna. La sua storia è stata raccontata in un libro, I ragazzi hanno grandi sogni, scritto a quattro mani con Francesco Casolo, che è stato proposto per la lettura agli studenti del liceo classico Marconi del Pino di Chiavari. I ragazzi hanno incontrato stamattina gli autori nell'ambito di uno degli incontri del progetto Credere. Alcuni passaggi della storia di Ali li hanno davvero coinvolti, tanto è vero che le domande non sono state per nulla scontate. I due momenti più difficili è che il primo è la perdita dei miei genitori vedendo la loro funerale, il secondo è l'ultimo saluto di mio fratello che parte e mi lascia da solo. I due momenti più difficili è stato per me. Mi ha molto emozionato, devo dire, a partire anche dal libro precedente, il sacrificio di suo fratello, il fatto che un ragazzo comunque di 17 anni sia disposto a donare sostanzialmente la propria vita a favore di un fratello più piccolo, sapendo quali rischi potrebbe correre, semplicemente con l'idea che io voglio portarti lì e ce la farò portarti dove desideri e dove potrai avere un futuro. La storia di Ali è straordinaria, ma è utile per capire meglio il tema delle migrazioni, vissuto oggi sempre come un problema ma articolato in miriadi di vite, di addi, di partenze, di lutti, sofferenze, lotte e infine, come nel caso di Ali, di rinascite. Prima di tutto ho imparato a guardare le storie di questi ragazzi una per uno, quindi a cercare di capire cosa c'è dietro a queste persone che arrivano, a cercare di capire quali sono le motivazioni che li hanno spinti e anche le condizioni che li aiuterebbero a integrarsi più facilmente arrivati qua. Oggi ho visto che dopo incontri, tanti di loro che sono venuti ad abbracciarmi, a fare foto, hanno capito che comunque il valore dell'umanità è quello più bello, ricucire il tessuto sociale. Il messaggio più importante ovviamente è quello soprattutto di studiare, di essere ascoltati, soprattutto loro hanno bisogno più di essere ascoltati, degli adulti, e gli adulti bisogna ascoltare sempre le persone più vulnerabili, le persone adolescenti.